Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedete questa maglia che nella sua semplicità, secondo me, è fantastica. Questa è la seconda maglia del Benfica per la stagione 2023-2024, quindi la nuova, in edizione FAN! FAN! La maglia, oltre ad essere bellissima, è fatta veramente molto bene. Il costo, lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi veramente molto vantaggioso. Trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Se il canale vi piace e volete vedere sempre nuovi video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa niente, ma a noi fa tutta la differenza del mondo. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. A voi non costa niente, ma a noi ma non costa niente. Ciao! Grazie a tutti.